Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi! Ragazzi, non mi sento bene. Non mi sento bene la cosa? Guarda che te l'hanno mandato. Eccoli, che è arrivata la cosa tu e la mamma. A di più. A di più, grazie! Possiamo vedere chi l'ha portato? Biglietto! Dove sta il biglietto? Il biglietto? Il biglietto? Il biglietto? Il biglietto non c'è! Florian! Ah, forse sarà il fioraio! Grazie, fioraio! Grazie, grazie, grazie per i fiori! Grazie, ragazzi! Mi sono troppati! Troppati! Mi sono 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 troppati! Ecco qua! Non mi sento bene! Faccio, faccio! Faccio, faccio! Faccio, faccio! Ragazzi, ve lo sapevo se era scrivuto! Che cosa l'ha portato? Un cuen uen 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 uen! iscriveteci davvero che la mattina conto tutti i fatti mi sa come stai sotto ragazzi buoni da direttamente ma scelta te l'hai ingannata o no? te l'hai messa buona o no? comunque mi ha regalato la torta va be che la torta l'ha sceglionna l'ha sceffonna quella l'anno di me tutti quando abbiamo spaccato la con il cattello così da vedere tic toc mi ha cattato i 25 euro 25 euro buonasera 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 cuoricini buonasera a tutti oggi tu sai stasì ma vai a cattare il latte valsaia quello al riso ragazzi sei presentato con granaro non lo posso bene tieni il lattosio dentro vabbè comunque prima vuoi sabato ho visto quattro passate tanto bello perchè qua io non ci faccio ragazzi ho parlato di tenere le casche però mio marito ha sempre fatto questo ho fatto una bottegna in mano guardate ha preso una di questa una di Siria una greca questa qua torrenta è che è stata sempre torrenta però è nata un tappo è nata un tappo è nata un tappo è nata un tappo va bene tutti qua per vedere le sedi ragazzi guardate cosa bello sono 20 grammi all'una però se è più grosso ma perché è più grosso chi è più alto non è più alto guardate l'hai detto ma rende questo uomo sai è che da 9 con un uomo guardate perché è giusto è rotto se è riuscita era mi cazzo vuoi gioco c'è il mio grande amore è sesso non bello ma perché si fuggi da là non è c'è c'è la data c'è la data di adastino ci hai fatto già sei pronto già sei attivo ci saluto e dici buongiorno è buona domenica oggi è sabato buon sabato buon settimane buon weekend è come bello, me l'hanno fatto i figli amici, guardate mi sono fatto bello, guardate, bello, bello e pronto, bello, pensano a sapere, ma figli dentro, ecco qua, e questa è bellissima, grazie, Gabriele, buongiorno, cuore bello, vedo bella, brillante, gloria di Dio, sono felice perché ti faccio gli auguri di buon anniversario, grazie, io oggi mi sono sposato, oggi è finito, oggi a mezz'è, mi sono venuto a mezz'è, 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 e dove? Comunque ero, ho parlato con mio papà, ero mai a mangiare solo luce, con un nonno, e con mio padre, mio amato, comunque un nonno, c'era la vita a tutto quanto, portiamo a tutto quanto per un ristorante di Uol e baciare la macera, comunque in un ristorante è un bai manante. La baciare c'è la luce, è bella, è bella, è bella, è bella, è bella quando mi spusse a io, 25 anni fa, ora ho capito di niente, ora ho fatto picchi di bocchi di bocchi di bocchi, ma come lì, ma come lì ho preso la spada, io ho preso i fucili e ci siamo sfucilati, che c'è? Cosa? Ma la virsa sembra stessa? Si lascia sembra stessa? E la ruta? Sembra vicina la ruta? Non ho fucili come fa. Hai capito? Gina, bella, insieme a questo piccolo raggio di sole che ho... Tu guarda festa, vuoi far la vita male, russette russa, lascio il segno se mi baixa, vuoi sago me perché venga a mezza platza, ma la santa ti ruba tu guarda la...